Allora, se vuoi sedurre un uomo, puoi utilizzare il suo segno zodiacale per sedurlo. È un'informazione come un'altra che può essere utile nella seduzione. Prima però di affrontare il tema, iscriviti al canale e seguimi sulla pagina Instagram Massimo Terramasco. Ti ricordo inoltre che sul canale ti puoi abbonare. Abbonandoti potrai scegliere tra diversi livelli di abbonamento. Abbonamento live per partecipare alle live. Abbonamento base con lezioni mirate. Abbonamento top con lezioni mirate, videoregistrazioni, seminari dal vivo. Abbonamento master consulting con in più una consulenza telefonica. E adesso veniamo al tema. Veniamo al tema e il tema è proprio quello della seduzione. Come sedurre un uomo in base al segno zodiacale. E il segno zodiacale, ripeto, è una delle tante informazioni che puoi utilizzare. Quindi cerca di utilizzarla meglio. Allora, nel frattempo però ti ricordo di iscriverti al mio canale YouTube Massimo Terramasco perché potrai fare molte cose interessanti. Allora, e veniamo al sedurre un uomo in base al segno zodiacale. Allora, partiamo dal segno della riete. Il segno della riete è un segno che puoi sedurre tranquillamente dando delle forti emozioni. Cioè la riete ha proprio bisogno di viversi delle forti tensioni emotive, una forte passione. Se non sei una donna in grado di stimolare fortemente le emozioni, non riuscirai, riuscirai difficilmente a conquistare un uomo della riete. Perché l'uomo della riete ha proprio bisogno di viversi questi impulsi molto forti. Quindi tende ad annoiarsi facilmente. Quindi una strategia per far innamorare un uomo della riete è quello di mettere in atto delle strategie in cui cambi sempre e continuamente. Gli stimoli devono essere diversi. Nella programmazione neurolinguistica il segno della riete è un segno che va verso nuove cose. Quindi questo è molto importante e fondamentale se vuoi conquistare l'uomo della riete. Devi mettercela tutta da questo punto di vista. L'uomo del toro. L'uomo del toro, diciamo che il toro è un segno maschile che comunque è il segno, possiamo dire, più il segno del toro è il segno, se vogliamo, più fedele. Tende a tradire quando percepisci che dall'altra parte c'è stato un tradimento perché il toro è anche un po' vendicativo. Quello che devi fare col toro è cercare una conoscenza profonda. Quindi farlo parlare molto. Se vuoi conquistare un uomo del toro, fallo parlare e presentati sicuramente come una donna istituzionale, mai come una donna trasgressiva. Fallo parlare perché in questo modo crei una connessione profonda, crei una connessione molto, molto profonda e questo fa sì che tenderà a coinvolgersi. Quindi il segno del toro ha proprio bisogno, diciamo, di questa situazione. Ho bisogno di questa situazione e quindi è abbastanza facile. Se è che a fare conoscenza dei gemelli, e vuoi sedurre un uomo dei gemelli, devi essere imprevedibile. I gemelli, tieni presente che sono ciclotimici, cioè cambiano spesso umore, sono degli ottimi comunicatori, sono anche un po' falsi, però i gemelli sanno parlare, sono un po' falsi, sono anche un po' traditori. Quindi il maschio dei gemelli tende comunque a tradire. Quindi devi essere imprevedibile, mettere sempre degli antagonisti, devi sempre stare un po' sul filo di lana, se sono dei gemelli, perché è proprio questa caratteristica di, diciamo, essere un po', come dire, essere un po' ha bisogno sempre un po' di, diciamo, viversi un po' la perdita. Ecco, questa è la strategia. Se ha a che fare con un segno del cancro, devi tenere presente che il cancro, anche qua, è un segno emotivo, un uomo emotivo. Non è più in tanti iperlogico, il cancro emotivo. E quindi si aggancia sulla sofferenza prevalentemente. Quindi se ha a che fare con un uomo del cancro, dagli un po' di sofferenza, fagli vivere abbandoni, fagli vivere rifiuti, dagli delle stimolazioni legate alla sofferenza e il segno del cancro sarà disposto, diciamo, per evitare questa sofferenza, a prendersi degli impegni. Perché poi, tutto sommato, il segno del cancro si vuole impegnare. Il cancro, in generale, diciamo, è un segno abbastanza per la famiglia. Però deve essere stimolato attraverso la sofferenza, attraverso l'emozione della sofferenza. Sofferenza che, ripeto, puoi somministrare attraverso abbandono e rifiuto, fondamentalmente. Poi c'è il segno del leone. Se vuoi sedurare un uomo del segno del leone, devi tenere presente che il leone è il segno più egocentrico dello zodiaco. Non c'è segno più egocentrico del leone. Il leone vuole essere sempre al centro dell'attenzione. Però, paradossalmente, il leone tenderà a innamorarsi di una donna che fa push-pull, che fa tir e molla, che prima lo mette al centro dell'attenzione e poi lo butta giù. E quindi devi creare col segno del leone inizialmente una sorta di vitello d'oro, ma poi devi abbattere questo vitello d'oro, devi farlo cadere. È un qualcosa di molto importante. Il segno del leone si convince, si innamora, diciamo, si coinvolge con una donna in questo modo. E poi abbiamo il segno della vergine. Se ha a che fare con un uomo del segno della vergine, tieni presente questo, che la vergine è il segno più, possiamo dire, iperlogico, più razionale dello zodiaco. Non c'è segno più razionale dello zodiaco che il segno della vergine. E allora, se vuoi conquistare un uomo della vergine, devi dargli una motivazione. Se non gli dai una motivazione, non si aggancia. Quindi no emozioni alla vergine. Quando la vergine gli proponi qualche cosa, se non è della vergine, devi sempre dire, ci sarebbe da andare in quel posto, si poteva partire alle nove, c'è posteggio, bla bla bla, devi dargli un sacco di motivazione. Più motivazioni dai, più vai a dare tante informazioni. Tra l'altro c'è anche un bias, che poi va benissimo a pressione della vergine, dove tu gli dai tante informazioni, perché così vai a saturare la sua mente cosciente, e lui è tranquillo, e parte tutto, diciamo, e arriva tutto all'inconscio. Quindi questa è un'altra cosa importante nella vergine. Poi c'è la bilancia. La bilancia è un segno che va alla ricerca dell'estetica. Cioè se tu ti presenti, trascurata, trasandata, il segno della bilancia ti sputa fuori. Va proprio alla ricerca dell'estetica. Quindi se non sei una bella donna, diciamo così, con la bilancia hai poco da fare. Certo, puoi migliorare, puoi migliorare sicuramente l'estetica. Ma purtroppo la bilancia, da questo punto di vista, il maschio della bilancia, è un po' superficiale nella scelta del partner. Va magari, si innamora di una bella stronza, diciamo, piuttosto che di una donna che potrebbe essere più valida. purtroppo in altri casi non è superficiale la bilancia. Quindi valorizza al massimo la tua estetica che può essere anche valorizzata con l'eleganza. E comunque questo è un qualcosa di fondamentale. E poi abbiamo lo scorpione. Lo scorpione, invece, mentre la vergine è il segno più razionale, lo scorpione è il segno più passionale. Lo scorpione, l'uomo scorpione ha bisogno di sessualità fondamentalmente. È l'unico segno, l'unico maschio, diciamo, che si coinvolge attraverso il sesso fondamentalmente. Quindi allo scorpione sicuramente. Poi è un segno un po' manipolatore anche, per cui devi anche dargli l'idea che ti puoi, puoi essere manipolata. Però anche qua sulla manipolazione devi fare un po' di tira e molla. Devi fare un po' di tira e molla e allontanarti un pochettino. Perché lo scorpione, soprattutto il maschio, è un manipolatore, insomma, è un po' manipolatore, per cui bisogna imparare una donna a dimostrarsi passionale e poi a, come dire, a farsi manipolare, ma poi a scappare un pochettino. E poi c'è il sagittario. Il sagittario, invece, vi informo, che è il segno più infedele dello zodiaco. Quindi se hai a che fare con un uomo del sagittario, tieni presente che toccati pure bene sulla testa, perché le corna, è probabile che possano crescere molto rapidamente le corna. Le corna del sagittario tendono a, cioè le corna che fa il sagittario tendono a crescere, a crescere abbastanza velocemente. Il sagittario è un altro segno avventuroso, quindi ha bisogno di trasgressione. Ecco, presentati un po' come trasgressiva e come avventurosa. Metti sempre degli antagonisti. Il sagittario, per non cronificarti, deve sempre pensare che ci sono, che ci sono situazioni, diciamo che ci sono situazioni che potrebbero portarti via, che potrebbero, perché siccome il sagittario fa le corna, nel contempo le corna le teme. Cioè potremmo dire chi di corna ferisce, di corna perisce, potrebbe essere un detto. E poi c'è l'acquario. L'acquario invece va alla ricerca di libertà. Quindi mai essere opprimente con l'acquario, perché se tendi a opprimere l'acquario scapperà sicuramente. Quindi lascia libertà, crea vuoto, allontanati e più ti allontani con l'acquario, meglio è fondamentalmente perché non riuscirà ad essere, diciamo, non riuscirà ad inseguirti. E poi c'è il capricorno che ho saltato, il capricorno, ecco qua, ho saltato il capricorno, ma veniamo al capricorno. Il capricorno è un altro segno molto razionale, ho invertito acquario il capricorno, come ho fatto prima l'acquario, adesso c'è il capricorno. Il capricorno è un segno molto razionale che viene coinvolto prevalentemente da donne di successo che abbinino successo a femminilità. Con il capricorno devi essere sexy ma austera, devi essere una donna di successo, una donna manager, una donna che lui percepisce. Il capricorno poi è caparbio, quindi non andrebbe mai a cercarsi la sciampista, va alla ricerca di una donna di successo sexy ma austera. Questo è quello che attira maggiormente il segno del capricorno. Quindi se vuoi sedere un uomo del capricorno, devi presentarti come una donna sexy ma austera, come una donna che abbia successo, che sappia quello che vuole e che abbia, diciamo, queste prerogative. E poi per finire veniamo ai segni del pesce. Il segno del pesce, il maschio dei pesci, è un segno che ama essere dominato, quindi ama una donna un po' dominante, ama, non dico una mistress, però una donna un pochino dominante, perché il segno dei pesci è un segno molto gentile, è un segno che si dà da fare, è un segno, diciamo, anche molto servizievole, tra virgolette. Quindi se hai a che fare con un uomo dei pesci, presentati un po' dominante, vedrai che riuscirai a ottenere ottimi risultati. Comunque, se tu mi segui sul canale YouTube, ti iscrivi al mio canale YouTube, Massimo Terramasco, ci sono tantissimi video su tanti argomenti, più di 23.000 video, quindi vatti a iscrivervi al canale YouTube, ovviamente Massimo Terramasco, e ci vediamo al prossimo video. Ciao!